bravo 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 I like your part. I like your part. I like your part. I know what to do. I know what to do. Ah, you didn't see that part yet. I don't. Let's see if you're right. Whoa, bravo, Noah. Whoa, 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 whoa. Ah, ah, what the? Good job. Number four, done. Number five, two, seven. Stuff is in here, like, a lot. Can you move each of it? This for this. This for this. This for this. And? What about this one? Oh yeah, it does that too. This does that. Uh-oh. That's good. Uh-oh. Push. Uh-oh. 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 e e e e e e e No cosa c'è questa strana? questo per le spingi, il coloro di ecco questo fa vrrr mettendo la macchina così questo per gas e questo per andare in volta buu 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 questo è la chiamata sono disponibile? sì sono disponibile that's the key yeah the key go for it yes go for it can I help you this oh you're driving now oh I need gas I want to get gas oh my goodness oh oh so where is it oh wait why oh yes there good job noah you already did that whoa and here are my other ones this has the love sauce you want to see it yes okay whoa yeah like a lot and okay go hi and then good good okay ready to do it quick thank you and go quick through good job noah we have so much we have so much so some more good job though oh here's a long one why is it crystal long? super long yeah all done all done all done all done whoa let's push play now okay let's go okay 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 yeah cool oh ah 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 Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. 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 Sì, Sì. 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 Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì.